Certamente ci sono delle incongruenze che vanno sanate prima che dall'11 settembre entri in funzione il collegamento ferroviario con due corsi al giorno tra Avellino e Napoli con orari ponderati alle esigenze di pendolari e studenti. Risolvibile quello delle corse urbane dell'AIR per incrociare gli orari di partenza e di arrivo. Aospicabile è piuttosto la riduzione dei tempi di percorrenza, 90 minuti, tenendo però conto che il collegamento prevede fermate a Solofra, Montoro-Furino, Mercato San Severino, Nocera Inferiore e Pompei. Si potrebbe fare in 70 minuti e speriamo che i programmatori di ferrovie dello Stato ci riescano. Il futuro della tanto attesa riapertura ferroviaria di questa tratta si gioca proprio sul pendolarismo che dalla Valle dell'IRno sceglierà il treno al posto dell'autobus e si gioca anche sul contributo che in questo senso vorranno dare gli avellinesi che per lavoro o per studio devono raggiungere Napoli. Il comboio guidato dal Minuetto offre 145 posti pochi, due corse giornaliere, una all'andata e una al ritorno sono insufficienti. Speriamo che queste due eccezioni vengano confermate dai numeri, non per caso dalla Regione parlano di esperimento che andrà avanti fino a dicembre. E' un esperimento perché? Ce lo spiegava e ce l'ha spiegato in più di un'occasione il Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, braccio destro di De Luca, con ampi poteri sul settore. Noi mettiamo il treno ma se apprenderlo sono in pochi e i costi di gestione vanno giù in picchiata dovremmo fare altre valutazioni e attendere tempi misiori. Il ragionamento non fa una grinza ma c'è da dire che il trasporto pubblico, specie quello che viene utilizzato da chi si sposta per lavoro e per studio, ha un suo costo sociale che va compreso oltre ogni eccessiva visione ragionieristica. Non solo se un appunto va avanzato è quello di non aver predisposto, almeno fino ad oggi non ne abbiamo notizia, una sufficiente campagna di informazione, di promozione e di sensibilizzazione. Per esempio una forte leva è quella che da Avellino e dalla sua provincia interna si può prendere un treno che lo porta fin dentro gli scavi di Pompei. Oggi a meno che non ci vai con la tua auto, fare lo stesso viaggio con mezzi pubblici è così complicato che conviene rinunciarvi. Questo insieme a tempi di percorrenza maggiormente concorrenziali con il trasporto su gomma può produrre numeri che accontenteranno anche i ragionieri regionali. Diamo tutti una mano in questa direzione, abbiamo tanto atteso questo momento che concentrarsi adesso su appunti, eccezioni, magari richieste di tavoli farebbe perdere tempo prezioso per cogliere obiettivi invece più ravvicinati e più decisivi per dare cioè continuità e permanenza al progetto andato in soffitta di far rinascere finalmente la stazione di Avellino.